Siamo a Sanremo, Radio Bruno Tutti cantano Sanremo Sono tornati a trovarci qui a Radio Bruno nella postazione Area Stile Deborah Iurato e Giovanni Caccamo, ben ritrovati Ciao, ciao, grazie Come possiamo definire? Un incanto, una meraviglia, voi due sul palco Una canzone bellissima, complimenti Grazie, grazie di cuore E complimenti anche perché questa sera, direttamente tra i big e tra i campioni in gara, ve la contenderete Che umore avete, che sensazioni avete Ma siamo felici, non vediamo l'ora che è stasera per cantare di nuovo Sì, sì, infatti è un contare le ore che ci separano dal palco, dal momento ormai Ve l'aspettavate? Volevate arrivare a questa finale? Sì Perché sai, le volte c'è gente che dice, la vivo di giorno in giorno No, no, cioè nel senso che ci speravamo Ecco, e quindi siamo contenti di questo Sì, infatti Non mi volete dire altro? Cioè, tipo? Ma ti possiamo dire che sono usciti i nostri album e siamo doppiamente felici Perché si chiamano Non Siamo Soli, il mio, e contiene un duetto con Carmen Consoli, uno con Malika Jan E il mio si chiama Sono Ancora Io, ci sono diversi inediti e poi ci sono delle versioni rivisitate in chiave acustica Tra cui, anche se fuori inverno, che mi era scritta Fiorella Mannoia E anche una sorpresa che però solo acquistando scoprirete Bene, non vediamo l'ora di scoprirlo Deborah, è stato il tuo primo Sanremo Perché Giovanni l'anno scorso ha vinto nella categoria Nuove Proposte Quanto ti ha aiutato a mantenere, insomma, salda la concentrazione? Beh, tanto Il primo Sanremo è forte E il fatto di andarci con un amico è bello perché riesci un po' a dividere quello che... a condividere L'emozione, a bilanciarla e quindi sono felice di fare la mia prima esperienza a Sanremo insieme a lui Anche io, naturalmente Un testo di Giuliano Sangiorgi, vi siete sentiti dopo la prima esibizione? Ci siamo sentiti dopo la prima, dopo l'esibizione cover, dopo la seconda esibizione di ieri sera Quindi siamo in aggiornamento costante Giuliano è contentissimo, noi siamo contentissimi di dar voce, insomma, alle sue parole Ed è un regalo enorme Infatti l'avevi detto che ti aveva messo KO a livello proprio di emozioni nel senso positivo quando l'avevi sentita come canzone Sì, quindi siamo felici Caterina Caselli, cosa sta dicendo? Secondo me questa coppia è forte Guarda, devo dire che più li guardo, più mi rendo conto che poi è un'amicizia vera Capito? Questa ragazza con questo sorriso è veramente unica E ha ragione perché siete una meraviglia Poi c'è un'intesa particolare nei vostri occhi Sì, sì è vero Ieri sera infatti c'è stata una magia pazzesca Quando abbiamo finito di cantare e ci siamo guardati negli occhi non lo so che cosa è successo Ma è stato veramente forte ed emozionante per noi soprattutto E spero sia arrivato anche alla gente che ci sta seguendo Come vi preparate a questa finale? Nel senso dietro le quinte? Quando dovete uscire? Fate, non so, vi tenete per mano, vi guardate? Eh sì, sicuramente ci guarderemo Lei beve sempre dell'acqua e mi fa venire l'ansia Perché io ogni volta lei vestita un secondo prima di salire sul palco Che apre questa bottiglietta con una noscialance unica E io ogni volta dico Ferma Debbie ti prego che ti bagni il vestito Magari ti si sbava il trucco Quindi sono lì praticamente Lei è super carica Io sono più invece zen Io faccio il riscaldamento Il rame 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 D'altro ieri perché io la prima puntata ero tanto emozionata Era un palo proprio E ieri invece per scaricare ho detto no ora facciamo una cosa Ero in camerino e mi sono messa a ballare come una pazza O no? Sì devo dire Cioè ero scatenata Devo dire Così ho scaricato un po' Allora scatenati anche questa sera oppure concentrati attenzione all'acqua Sì sempre E prontissimi sul palco complimenti canzone meravigliosa e tanto richiesta anche da noi a Radio Bruno Grazie Via da qui Via da qui Via da qui Via da qui Grazie Giovanni Caccamo e Deborah Jurato Grazie a voi Ciao grazie mille Ciao